ciao ragazzi qualche ruvino scusate per la mia voce ma un po no fra freddore così vi devo spiegare qual è la passione che provo per un pokemon uno dei pokemon non pikachu ma un pokemon fortissimo molto forte saggio e potente allora usciamo dalla telecamera dai spero che si apre questa app ok in questa app puoi conoscere tutti i pokemon allora non puoi ahia il pokemon che abbiamo sono volcanion vitigni pion shalmin moluetta maresciato megadion jens megadon maiappi clideo oppa ombund giraishi corregent oppa de carai de gois archias saramma e arceus celebi come potete notare ci manca pikachu poi non mi ricordo manco il nome di che come si chiama quel pokemon che lancia la sabbia contro arceus il pokemon che dovete indovinare è lui qua si dimostra come disegnare questo pokemon forte è assai difficile disegnarlo raga ve lo dico già ecco chi indovina il pokemon sarà salutato chi non riesce a dovinare vi lascio l'info della descrizione iscrivetevi al mio canale ringrazio per i 33 iscritti noi ci vediamo nel prossimo video e ricordatevi di avere tantissimi pokemon perchè se volete sconfiggere questo pokemon qua che dovete indovinare il nome sarà salutato